Ogni anno il Natale è un appunto di luce, case, strade e vetrine illuminate e ce lo ricordano, ma non svelano ciò che significa. Quest'anno è tutto diverso. La festa del Natale entrò nel calendario cristiano molto tardi, nelle 354 d.C. con l'imperatore Costantino. Nei primi secoli, infatti, i cristiani non avevano altra festa che la Pasqua, che veniva chiamata Giorno del Sole, perché ricordava la resurrezione di Cristo. Il 25 dicembre era il giorno in cui a Roma veniva celebrata la festa del solstizio d'inverno e dell'approssimarsi della primavera. Era una festa caratterizzata da un'incontenibile gioia perché il sole ricominciava a splendere. I cristiani presero questa festa pagana perché consideravano Gesù il sole venuto a visitarci dall'alto per illuminare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte. Poi, però, è arrivata la pandemia da Covid-19, una violenta pagina di sofferenza e morte. Più di 66.000 volti sorridenti di padri, madri, figli, nonni, zii, cugini, amici e conoscenti morti nella solitudine che questa pandemia ha causato. Più di 65.000 persone alle quali nessuna persona, a loro cara, ha potuto tenere la mano nel momento dell'ultimo respiro. Più di 66.000 persone che forse avrebbero preferito non litigassimo su pranzi, cene e cene di Natale. Ora, è bene ricordarci che Natale significa nascita. La molla della vita è caricata di continui cambiamenti. Il nuovo sorge sempre su ciò che siamo stati, anche se di quel passato in alcuni casi restano solo macerie. È un continuo morire di vecchi equilibri, modi di pensare, atteggiamenti per stimolare mente e cuore a rinascere con nuove scelte, nuove motivazioni, nuovi interessi. Apriamo il nostro cuore alla vera luce, alla luce che può illuminare e trasformare noi stessi se nasce dentro di noi. La luce del bene che vince il male, dell'amore che supera l'odio, della vita che sconfigge la morte. Buon Natale dalla nostra redazione.